Ehi, Vitale, iniziamo con questa spalletta, ah, ah, giallo, blu, e rivalleggiamo, ua Daniele, come bello su balleggia, ah, è il figlio di Natale con questa spalletta, Antonio, piano, piano, tutti con le mani, questa new entry, guaiù, sta cominciando la partita, Liga Calcio, Serie A, tutti con le mani, tutti con le mani, Ehi, ah, 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 lo giocherete a usted tambien, solo, blu, solo, blu Molta, bella, ah, 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 ah Grazie a tutti 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 Grazie a tutti